Buongiorno a tutte e a tutti, da Trieste, dal KNULP, bar alternativo conosciuto da moltissimi dei nostri cittadini, e cominciamo la conferenza stampa dedicata a Taki Bai for Peace, viaggio, tour in bicicletta. Tour in bicicletta da Trieste a Gorizia, Villaco, fino a Vienna, realizzato alla vigilia della Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza dall'associazione Kaki Tree Project, che abbiamo qui in collegamento tramite il presidente Francesco Foletti. che interverrà subito dopo di me per essere seguito quindi da Giancarlo Carena, presidente della cooperativa agricola Monte San Pantaleone di Trieste, che interverrà sul parco di San Giovanni la piantumazione del caco di Nagasaki Triestino, e la vicinanza appunto di questa pianta simbolica e forte come simbologia allo studio di Franco Basaglia. Seguirà Hans Heider del Movimento per la Pace di Villaco e di Abfang Austria, che è in collegamento con noi, quindi concluderà Tiziana Volta a detta stampa del Brescia Nagasaki Kaki Tree Project for Europe. Il sottoscritto rappresenta la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Una parola necessaria è l'anniversario. Come ogni anno, anche qui a Trieste e come in tantissime altre città del mondo, si ricorda l'anniversario dell'Olocausto Atomico di Hiroshima e Nagasaki. Il senso di questa data è pesantissimo nei tempi in cui stiamo vivendo, poiché da qualche anno a questa parte l'orologio degli scienziati contro il riarmo nucleare segna 90 secondi alla mezzanotte. E' una ricorrenza portata avanti da decenni, iniziata ancora subito dopo il 1945, che segna la vicinanza con il possibile nuovo Olocausto, questa volta nucleare. Siamo sotto pieno riarmo nucleare, tutti i trattati in ordine al controllo di queste armi sono stati stracciati dalle principali potenze, si parla di Stati Uniti e Federazione Russa. Siamo in un porto nucleare militare, qui a Trieste, adiacente nello stesso Golfo a un altro porto nucleare militare, quello di Capodistria. Quindi questo è il senso principale della nostra iniziativa, cercare di contrastare la deriva di riarmo e in particolare quella nucleare. Per questo ricordiamo da decenni ormai questa data fatidica dell'inizio di agosto del Olocausto atomico di Hiroshima e Nagasaki. E in questo senso abbiamo inteso piantare una pianta, una pianta di Cacon, Shibakushumoku, proveniente da Nagasaki, è discendente da una pianta che ha vissuto la bomba atomica direttamente per manifestare la contrarietà e cercare di supplire alle carenze dei nostri governanti che ci stanno portando purtroppo verso una deriva che potrebbe essere senza ritorno. In questo senso raleghiamo le cose con le nostre iniziative, in questo caso con l'iniziativa di Kaki Tree Project. E do subito la parola a Francesco Foletti che ingegnosamente ha promosso e organizzato da ben quattro anni questi tour in bicicletta antinucleari basati sulla piantumazione dei Kaki di Nagasaki. Prego Francesco, a te la parola. Grazie a tutti, grazie di averci aiutato a far conoscere ancora meglio quello che è questa esperienza. Parto dalla frase che vedo scritta dietro Alessandro «E resistiamo». È un po', diciamo così, uno dei motivi per cui noi facciamo questo progetto. Aggiungerei una parola. «E resistiamo insieme». Questo è un po' il concetto di questo progetto e anche di questo evento che noi tutti gli anni ormai stiamo realizzando. È partito piano piano qualche anno fa e poi si è sviluppato. Io se volete vi faccio vedere qualche slide veloce proprio tanto per vedere un attimino qual è stata l'evoluzione e poi vi racconto quello che faremo. Posso fare vedere? Certo. Ok, adesso. Vedete? Sì. Ok. Allora partiamo. Questo è un percorso proprio per la pace. Noi abbiamo cercato in questi anni di creare proprio dei movimenti, di muoverci un po' per poter mettere in luce, in risalto un po' queste tematiche. Soprattutto anche il concetto di rinascita che è una delle basi che sta dietro al Caki Tree Project. E siamo partiti all'incirca nel 2018 e come prima esperienza l'abbiamo fatta proprio nei dintorni. Voi vi domanderete perché Brescia è così centrale all'interno del progetto. Forse io dico sempre la capitale del Caki Tree Project. Perché effettivamente sui 180 alberi che ci sono in Italia 60 sono circa solo nella provincia di Brescia. Questo perché tante comunità bresciane hanno fatto questo progetto che non è solo piantare la pianta ma è anche quello di creare percorsi dedicati all'interno di questa esperienza. Perciò ha coinvolto veramente ormai tantissime persone. Io lo conteggio già in più di 300.000 persone hanno saputo che cosa vuol dire Caki Tree e cosa vuol dire resistere alla bomba atomica. E qui siamo partiti con il primo anno proprio facendo un cammino a piedi. Invece nel 2018 sempre abbiamo fatto questa esperienza partendo da un Caki che è più in alto di tutti nel senso che è un'altitudine di circa 600-700 metri e devo dire i Caki si adattano facilmente ma questo è stato un po' e siamo partiti da lì proprio per fare un po' questa esperienza. Nel 2019 ci siamo un po' fermati perché stavamo facendo questo passaggio proprio insieme alla comunità giapponese che ha creato questo progetto e poi nel 2020 quando stavamo proprio cercando di realizzare l'ufficialità di questo collegamento ufficiale fra noi e il progetto giapponese nel 2020 è arrivato il Covid e qui abbiamo fatto questa piccola iniziativa ma non era tanto piccola perché come vedete l'abbiamo fatta partendo dal luogo simbolo per Brescia che è un po' la nostra bomba atomica alla fine Piazza della Loggia per noi è un po' la nostra bomba atomica e poi ci siamo spostati in quel giardino che vedete che è all'interno del giardino di Santa Giulia e in quell'occasione abbiamo fatto proprio una cosa molto ferma chiamiamolo così visto i momenti che stavamo passando in tutti i tagli e in tutto il mondo. L'anno successivo quando si è riaperto anche se avevamo ancora le mascherine come vedete e tutto il resto abbiamo fatto questa esperienza di risalire questa nostra valle che è questa Val Camonica che è un po' una valle particolare perché è una specie di quasi stato a sé tante volte per quanto riguarda Brescia e abbiamo risalito lungo proprio dove ci sono i cagli siamo partiti proprio da Brescia e siamo arrivati proprio su in alto ancora a Sonico ma però perché era il punto dove abbiamo seguito circa 4-5 esperienze fatte proprio su questo territorio della Val Camonica. poi visto che la cosa aveva funzionato bene e soprattutto ci eravamo presi d'entusiasmo come vedete qua abbiamo fatto questa esperienza nel 2022 quella da Brescia a San Marino e lì abbiamo inserito vari siamo passati sempre da alcune località dove c'erano i cacchitri dalla provincia di Modena dalla provincia di Bologna e siamo arrivati proprio in quel di San Marino dove questo cacchio è stato messo proprio all'interno di un piccolo diciamo così luogo dove però si ricorda e si medita molto ecco che allora anche lì e questo era San Marino come vedete siamo passati da Piazza della Loggia all'inizio come al solito è un po' la nostra partenza solita e siamo fermati anche abbiamo avuto un bellissimo momento molto profondo alla stazione di Bologna e anche lì devo dire non è capitato a caso siamo capitati proprio nel giorno e anche nell'orario in cui è scoppiata la bonda non abbiamo programmato niente di questa storia è capitato così e tante volte nel cacchitri capitano un po' queste cose quasi per caso capitano cose incredibili e questo è stato un po' uno dei momenti importanti di quello del stato 2022 l'anno scorso abbiamo avuto questa esperienza io dico particolare prima di tutto perché l'anno prima proprio nel 2022 avevamo messo a dimora questo albero di cacchi nel giardino di Castelporziano la residenza estiva del Presidente della Repubblica e lui aveva accettato ben volentieri di piantare questo albero insieme a dove vengono piantati gli alberi di tante altre nazioni di tanti altri doni che gli vengono offerti e lui ha voluto proprio che venisse messo lì ed è capitata una cosa strana nel senso che noi avevamo deciso di partire dandoci la possibilità da parte della Presidenza della Repubblica di partire in bicicletta proprio da dentro la tenuta e arrivare fino a Scampia però la sorpresa è stata che alla mattina ce lo siamo trovato lì nel senso che ha voluto venire a salutarci questo come segno di importanza di questo gesto devo dire che noi abbiamo ribadito al Presidente quello che sono i concetti su cui noi lavoriamo quello del disarmo atomico soprattutto perché lui è anche il responsabile delle forze armate perciò noi abbiamo ribadito che per noi l'utilizzo e soprattutto il fatto di togliere le armi atomiche è basilare per il mondo questo è stato un po' il messaggio che noi direttamente abbiamo voluto dare a lui ma l'abbiamo dato in giro anche per le altre località dove siamo passati passando da Cassino e arrivando fino a Scampia in questi giorni Scampia è un po' diciamo così nelle varie notizie forti che ci sono tutti i giorni Scampia è un po' quella che ci ha lasciato molto nel cuore un'esperienza quella di conoscere bene le persone per capire il perché succedono e perché ci sono certe situazioni e noi ce ne siamo accorti perché abbiamo conosciuto tantissime associazioni che lavorano soprattutto a Scampia con cui abbiamo fatto un progetto grosso a Scampia e come vedete ci sentiamo ormai parte di loro io vi dico che in questi giorni quando è successo quello che è successo nella vela azzurra mi sono confrontato con qualcuno dei ciclisti che è stato con me e devo dire la verità ci sentevamo colpiti anche noi da questa cosa proprio perché ormai era diventato questo passaggio perciò il Cacchi Tri cerca di fare in modo di resistere ma resistere insieme come dicevo prima ecco che allora il fatto di quest'anno fare questa esperienza partendo dal Cacchi di Trieste che per noi è da tempo ormai diciamo così ormai cresce e dà molti frutti insieme agli amici proprio Triestini insieme a Tiziana che l'ha curato già dall'inizio e poi soprattutto perché partiamo da questo luogo particolare di rinascita che è proprio il Parco San Giovanni e ci teniamo molto a ribadire questo concetto qua passeremo nei vari passaggi incontreremo anche Gorizia Novagorica che l'anno prossimo farà l'esperienza diciamo così del Cacchi Tri perché sarà l'anno della cultura europea e la città di Novagorica e Gorizia insieme faranno questo passaggio e delle associazioni dei gruppi una scuola un'università di Novagorica proprio realizzeranno questo progetto e arriveremo a Villac a Villac che ormai è diventato un po' c'è non è la porta di apertura all'interno dell'esperienza austriaca e siamo contenti di questo perché si sono impegnati molto per fare tutto questo soprattutto anche facendo quella realizzando e cercando di realizzare la traduzione di quel piccolo libro che è molto importante per i bambini che racconta la storia di questo albero e qua concludiamo quest'ultima immagine che vedete è quella sulla vostra a destra è quella proprio della cerimonia di piantumazione che abbiamo fatto a giugno in quel di Vienna dentro in un bellissimo parco dove passano tantissime persone e dove lì è stato ben chiaro il fatto di mettere questo simbolo e raccontare la storia e qua siamo stati molto contenti perché anche la parte politica si è espressa proprio contro ogni tipo di violenza e ogni tipo di aggressione anche verbale che spesso volentieri vengono realizzati anche da da parti politiche per noi è importante ribadire che resistere però resistere nel segno della non violenza questo è una delle basi su cui si basa il progetto e anche il logo che vedete in parte sopra in alto rappresenta un po' quello e ve lo spiego anche perché magari qualcuno può dire quella diciamo così quella pianta è un po' quello che ci fa andare dritto per noi dal punto di vista dell'esperienza perciò è sul manubrio non a caso la bandiera italiana l'abbiamo messa dentro dietro dove c'è il portapacchi ma perché c'è tutto un bagaglio dietro a questi 180 progetti che sono stati fatti in Italia sicuramente il motore che ci dà un po' la spinta è tutto il progetto giapponese ma davanti vogliamo portare questa bandiera dell'Austria quest'anno ma perché vogliamo che diventi veramente una specie di via di ingresso magari anche ad altri luoghi non solo austriaci ma anche dell'est europeo proprio per aiutare a fare in modo che questo progetto possa essere conosciuto questo perché è molto semplice il progetto però nello stesso tempo può diventare veramente una grande spinta a livello proprio anche dal basso senza dover avere grandi proclami dal punto di vista istituzionale e qua vi mettiamo l'ultima che vi lascio è proprio le prossime piantumazioni che faremo e saranno molto significative soprattutto le prime due la prima verrà fatta l'uno due tre settembre le mamme di Beslan dove c'è stato quel grande eccidio quest'anno è il ventesimo anno pianteremo questo albero è un significato molto forte soprattutto perché siamo sul territorio russo e noi riteniamo che esportare uno strumento di pace dà forza al fatto di come noi contrastiamo l'esportare armi in giro per il mondo questo è un po' il nostro pensiero il 9 ottobre a Caivano una cosa sarà molto diciamo così intima perché abbiamo visto un'altra a Caivano quando siamo stati a Caivano e con loro vogliamo veramente stare molto in intimità senza dover far vedere che si aprono piscine o si fanno altre cose vogliamo fare che loro diventino i protagonisti di questo loro albero che pianteranno che darà un po' il segno a loro di continuare diciamo così a resistere perché è da 40 anni che resistono questo è il problema e nessuno se ne accorge e solo adesso qualcuno pensa di risolvere i problemi e il 12 ottobre concluderemo quest'anno ma non sarà concluso perché a novembre ci saranno altre iniziative a ottobre andremo a Cagliari sull'isola e cercheremo di portare un po' questa esperienza già abbiamo tantissime altre proposte per il 2025 soprattutto che ci vengono richieste noi non andiamo a proporre ma quello che facciamo è quello di stare in parte a chi vuole fare questo progetto e cercare di condurlo nella maniera migliore perciò ecco perciò io ho concluso tutta la mia diciamo così presentazione è molto semplice il fatto di viaggiare è la cosa che ci interessa di più saremo anzi mi dispiace che uno dei ciclisti stava arrivando a Trieste direttamente in bici ma ha dovuto tornare indietro perché gli è venuto un principio di polmonite perciò dovrà dare forfè però saranno comunque anche una cosa molto semplice piccola cinque persone in bici più due tre di appoggio più due persone anche che verranno nei primi giorni con un gong perché il gong è un altro delle esperienze che facciamo all'interno del kakitri tra le varie che vengono fatte in cui nei vari luoghi cerchiamo di muovere un po' l'energia che questi luoghi devono comunque darci per poter continuare ecco questo è un po' quello che noi proporremo dopo sul viaggio non sto qui a dilungarmi comunque è tutto un viaggio che seguirà e incontrerà un sacco di persone saremo veramente contenti di attraversare tutta l'Austria veramente incontrando molte realtà perché comunque già altre realtà ci stanno chiedendo di incontrarci ci manderai la cronaca del viaggio spero sì noi cercheremo adesso anche attraverso la nostra oltre che è Tiziana ma abbiamo anche un'altra data stampa locale e vedremo di riuscire a tenere in collegamento un po' se riusciamo giornalmente quelle che sono un po' le esperienze ecco questo è un po' quello che faremo d'accordo ti ringrazio ti ringraziamo ho visto che farete anche un piccolo sconfinamento in Slovenia sì per evitare una salita un po' un po' più impegnativa abbiamo deciso troppo impegnativa chiaro ecco andiamo avanti quindi grazie Francesco do la parola a Giancarlo Carena che è qui con me di persona e che ci introduce il tema del del nostro caco triestino qui al parco di San Giovanni bene buongiorno allora credo che parlare di questa iniziativa di piantumare il caco di il clone del caco di Nagasaki nel parco di San Giovanni oggi nel 2024 2024 forse mi mi obbliga a fare qualche riflessione un po' di carattere generale quest'anno cade il centenario della nascita di Franco Basaglia il nome di Franco Basaglia è sicuramente legato alla chiusura degli ospedali psichiatrici in italiani ma va ben oltre è legato alla restituzione dei diritti negati è negata alla riflessione sulle tematiche della salute mentale e alle grandi esperienze che Basaglia è riuscito ad attivare nel mondo io sono appena tornato dal Brasile dove sono stato invitato ad una bella conferenza Rio che aveva proprio per tema il centenario di Basaglia e la parola la libertà e terapeuta allora San Giovanni San Giovanni è un esempio riuscito io credo di riconversione di un ospedale psichiatrico San Giovanni ha cento fratelli in Italia più o meno sistemati metà di questi ancora abbandonati vuoti e cadenti e c'è un grande tema ma San Giovanni guarda i diecimila manicomi sparsi nel mondo oggi ancora chiusi e pieni di persone lì segregate allora due parole su questa esperienza che a mio avviso può essere di riferimento a livello mondiale di come si può e si deve riconvertire un manicomio San Giovanni oggi è gestito da un innovativo condominio fatto da università azienda sanitaria comune regione e San Giovanni oggi ancora fa convivere molte cose diverse al suo interno in una convivenza molto fertile ecco allora sarà per questo che credo che noi oggi possiamo dire che il parco di San Giovanni è un parco culturale voluto prima ho citato la parola la libertà è terapeutica da 50 anni sui muri del ex ospedale psichiatrico ci accompagnano due scritte una è visibile ed è quella che dice la libertà è terapeutica un'altra un po' sbiadita un po' nascosta dice che la verità è rivoluzionaria allora credo che oggi queste due scritte siano più pregnanti di quanto non fossero negli anni 70 nel momento in cui sono state scritte arriviamo al progetto e mi avvio la conclusione nel 2012 sollecitati da Tiziana Volta la cooperativa agricola Monte San Pantaleone nell'ambito di un progetto di valorizzazione del parco di San Giovanni predispone un progetto un giardino della memoria un progetto piccolo ma molto innovativo realizzato da Vladimir Vremez e dalla architetta del paesaggio Romana Kacic è un piccolo segno di grande qualità e lì è stato piantumato questo caco a distanza di 24 14 anni o giù di lì il caco sta bene non benissimo nel senso che si è scisso a un certo punto si è aperto non sappiamo se per qualche incidente meteorologico o per qualche strana anomalia genetica l'abbiamo rimesso assieme con fatica con corde e quindi il caco sta bene è un luogo è un luogo della memoria è un monito ed è un monito su tutte le parole che ho sentito prima e credo che sentirò ancora in questa nostra conferenza grazie molto bene Giancarlo ti ringrazio qui sul tavolo abbiamo anche alcune alcune fotografie o sono più disegnate forse che sì ecco del caco di Nagasaki di San Giovanni di Trieste e anche una piantina del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico attualmente divenuto parco culturale di San Giovanni ecco continuiamo quindi la conferenza dando la parola al nostro amico Hans Hans Aida del movimento per la pace di Villaco e membro anche dell'associazione nazionale austriaca ABFANG che fra l'altro devo dire con estrema soddisfazione perché vi ho partecipato è l'organizzazione che ha promosso l'unico incontro a livello europeo contro la guerra in Ucraina un paio di anni fa un incontro molto riuscito che è stato partecipato anche da persone che venivano dal di fuori dell'Europa e anche da persone provenienti dalla stessa federazione russa e dalla Ucraina e dalla Bielorussia quindi un incontro molto importante che speriamo di riuscire a rivedere valorizzato nel prossimo futuro prego Hans a te la parola vi saluto cari italiani e soprattutto devo dire che mio italiano non è non è bene apprezziamo moltissimo il tuo italiano Hans grazie e sì sono partecipanti dei movimenti per la pace di Vilacco e per noi è tre importanti è molto importante parlare sulla guerra in Ucraina sulla guerra Russia Ucraina e abbiamo anche abbiamo anche fatto piantumazione cacchi alberi qui a Vilacco e lavoriamo insieme con in questo caso in queste cose con gli italiani i ciclisti di Trieste i ciclisti per la pace che arriveranno il 5 agosto da Trieste a noi a Vilacco e noi facciamo un'accoglienza insieme con il sindaco di Vilacco e diversi consiglieri di Vilacco e il 6 agosto facciamo insieme con i ciclisti una commemorazione una commemorazione a causa della bomba atomica Hiroshima perché il 6 agosto il 6 agosto 7-9 anni fa Hiroshima fu ridotta in macerie da una bomba atomica e questa giornata è per noi un'opportunità per alzare la voce per la pace e contro la guerra e questo facciamo insieme con gli italiani e anche insieme con il sindaco di Vilacco e a diversi consiglieri di Vilacco io penso che oggi il movimento per la pace è più importante che mai non io noi pensiamo questo perché il mondo sprofonda sempre più in guerre e conflitti amati e così aspettiamo i ciclisti questo è tutto che dico adesso ti ringrazio molto Hans puoi aggiungersi solo qualche parola ancora sul sul resto del percorso in Austria e sull'arrivo a Vienna visto che so che sei in contatto anche con gli attivisti viennesi che accoglieranno i ciclisti se ci puoi aggiungere solo qualche parola su questo no non lo so molte cose il percorso continua continua a Vienna e a Vienna c'è anche un'accomodienza come? posso aggiungere io magari visto che ho qualche notizia in più come credete? perché è più Werner che sta seguendo un po' questo passando da Villaco ci avvicineremo passando da Graz e a Graz si è già data disponibile a creare il progetto Cacchi3 per l'anno prossimo e da parte proprio della vice sindaco e abbiamo avuto il contatto proprio diretto ma anche attraverso alcuni amici che abbiamo incontrato a Vienna quando abbiamo fatto la cerimonia l'11 di giugno perciò ecco sicuramente a Graz sarà diciamo un altro dei momenti importanti di incontro che faremo e poi sappiamo che a Vienna alcuni movimenti per la pace soprattutto un gruppo che si chiama Camminare per la pace sta creando ci accoglierà quando arriveremo in bicicletta faremo il passaggio passando proprio dal museo ebraico dove è stata esposta per sei mesi la pianta prima di essere messa a dimora perciò è stato un segno anche quello molto forte proprio abbiamo creato questa idea di mettere in visione questa pianta in questo museo ebraico proprio nei momenti dove in Palestina si creavano le condizioni di quelli che erano i vari diciamo così problemi dal punto di vista di rapporto fra lo Stato di Israele e Hamas perciò per noi era molto importante e loro hanno mantenuto questa promessa e soprattutto hanno poi continuato facendo poi la cerimonia ci porteremo dopo il passaggio in centro a Vienna andremo proprio al io non mi ricordo bene come si pronuncia il nome del giardino del parco che è dall'altra parte dopo dall'altra parte del Danubio e faremo un momento invece di cerimonia prima di sera dalle 8 fino alle 9 del 9 di agosto proprio alla pagoda che mi hanno detto che è un luogo dove vengono fatte realizzate alcune cerimonie dedicate alla pace e questo sarà un po' la conclusione del viaggio che faremo ecco come ho detto non siamo in tanti come ciclisti però l'idea è proprio quella di aggregarsi magari di fatto abbiamo già qualcuno che ci ha chiesto se magari si aggregherà lungo il percorso vedremo comunque noi come ho detto riteniamo importante l'incontro dopo grazie Francesco grazie grazie questo accadrà praticamente nell'ultimo giorno del viaggio il 9 di agosto quindi nel giorno dell'anniversario della bomba di Nagasaki ecco a questo punto vorrei chiedere di mandare il filmato con la testimonianza di Tiziana Volta che oltre ad essere l'addetto stampa del Kaki Tree Project è anche la coordinatrice nazionale della terza marcia mondiale per la pace e la non violenza buongiorno mi scuso per non essere lì con voi in presenza mi presento sono Tiziana Volta faccio parte del Brescia Nagasaki Kaki Tree Project for Europe faccio parte anche dell'associazione internazionale umanista mondo senza guerra e senza violenza ho in mente una frase la pace è il cammino e proprio con i cammini con i progetti di pace che ho scoperto il Kaki Tree Project ero nel territorio bresciano a presentare la prima marcia mondiale per la pace e la non violenza nel 2009 e lì qualcuno mi parlò di questa pianta che era sopravvissuta all'attacco atomico di Nagasaki del 9 agosto del 1945 mi innamorai subito di questo progetto e cercai di farlo conoscere anche da altre parti in Italia una di queste è proprio Trieste che è una città che io amo molto e con gli amici triestini abbiamo pensato di portarlo al parco San Giovanni ormai sono passati 12 anni dalla messa di mora di questo Kako noi siamo tutti molto contenti che è sopravvissuto anche alle Bori Faestine parlavo della prima marcia mondiale stiamo per affrontare tra circa due mesi la terza edizione che partirà da Sant'Ovento Sparica il 2 di ottobre e lì questo gruppo di marciatori dopo aver navigato il nostro pianeta ritornerà il 5 gennaio del 2025 e siamo qua per presentare il Bike Tour Kaki Bike Tour for Europe perché proprio da Trieste partirà la quarta edizione e attraverso i Kaki che sono nati se vogliamo dal Kako di Brescia da Trieste si è andati a Villach e oggi anche a Vienna questo per dire che appunto la pace è il cammino quindi io invito tutti a continuare questo cammino buona giornata ce l'abbiamo fatta grazie a tutte e a tutti e credo che vadano dette un attimo un paio di cose prima di avviarci alla conclusione o a qualche intervento che ci dovesse essere in particolare per non ripetere cose già dette alle 9 di sabato 3 agosto i paciclisti così li abbiamo amorevolmente definiti saranno presenti in piazza unità a Trieste di lì si sposteranno verso l'albero di Cacchi sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki e piantumato come ben sappiamo presso lo studio che fu di Franco Basaglia nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a ricordo della rivoluzione non violenta che portò con la legge 180 all'apertura dei manicomi in Italia alle 10 e 30 seguirà la partenza lì proprio dal dal calco di Nagasaki di San Giovanni verso Gorizia dove l'iniziativa farà una prima importante tappa nella città che assieme a Nova Gorizia si accinge a diventare nel 2025 capitale europea della cultura e che in quell'anno vedrà la messa di Mora nella città italiana e slovena di Uncaki di Nagasaki quindi sarà la volta dell'amministrazione comunale di Udine e Gemona a ricevere in visita i ciclisti e dopo una sosta chiusa forte questi giungeranno in Austria a Villaco per tutto il percorso che abbiamo già sentito e in parte anche visionato ecco le tappe successive saranno Radie Obdravi in Slovenia Graz Langevang e quindi dal 6 al 9 agosto e basta mi fermo qui ho sentito che c'è una richiesta di domanda o intervento dal pubblico prego e se si vuole avvicinare per cortesia perché stiamo spero di sì in alternativa avviciniamo il microfono di essere al di là del tavolo in quanto invitato da un invito circolare che avrebbe dovuto dare come risultato anche altre presenze a testimonianza di una conferenza stampa che ovviamente è gestita da promotori e cosa ci sto a fare io a parlare in questo momento innanzitutto vorrei salutare la Tiziana Volta e anche Francesco persone con la quale abbiamo avuto nel corso di tutti questi 12 anni per la volta e l'anno scorso con Francesco anzi rivolgo al Francesco una una diciamo voce data dagli amici della Casa del Popolo di Sottolongia la Trieste dove è stato ospite che la mia collega professoressa Anna Maria Mozzi era riuscita comunque a dargli vicinanza ed inserirlo in quel contesto è stato evocata quella sua presenza giorni addietro in occasione di una cosa marcata forse dal punto di vista di contenuti che è stata una conferenza di presentazione di un libro e comunque lo svolgimento di una pasta asciutta antifascista cosa che non guasta nei tempi delle guerre che esistono in giro avere memoria allora qualche volta si trovano le combinazioni che la memoria sfugge allora nei 12 anni della presenza di quel cacco non abbiamo da avere meriti di presenza ma abbiamo avuto anche come comitato pace convivenza e solidarietà Danilo Dolci un ruolo di carattere organizzativo e anche di sostegno materiale dello svolgimento degli incontri tranne l'altranno che c'è stato un po' un accavalamento e un doppione però le date rituali purtroppo quelle del 6 e del 9 sono quelle che sono praticate nella modestia della realtà di Trieste e questo di quest'anno in questa data ci vede comunque anche interrogarci sul il da farsi il 6 e il 9 di agosto perché le energie in giro sono quelle che sono e comunque abbiamo dei grandi valori e delle chicche per contenuti talmente preziose che però non hanno le attenzioni che meritano visto quello che è in gioco le atomiche maledette allora questo 6 e 9 agosto Francesco ma soprattutto Tiziana diciamo a Trieste ancora di confezionato non è ancora diciamo realtà nemmeno teorica questo perché la pace maledettamente è anche i pericoli che ci sono nell'epoca che si parla di bombette atomiche diciamo tattiche o non tattiche è il dramma del nostro tempo ma visto che la pace è anche il pericolo dello scopio di bombe atomiche è la cenerentola la pace in questo momento gli onori o disonori della cronaca l'attenzione c'è quella che c'è e allora direi raccogliamo le energie e le forze senza perdere memoria e quindi al di qua o al di là del tavolo il messaggio è chiaro direi che occorrerebbe avere comunque la capacità di vedere di realizzare iniziative in senso unitario pur nella modestia questo finisco per dire anche nella veste di un indigeno che vive pur alle iniziative insieme ad altri nel rione di San Giovanni noto nel mondo ma non tanto praticato quanto servirebbe anche a San Giovanni dalla comunità di quel territorio perché comunque bene sarebbe che anche qualche evento che ci sono di eventi significativi in quel parco culturale qualche volta avesse un'attenzione rispetto a quel parco della memoria anche addentro ho avvicinato ad grandi eventi che avvengono per fortuna nel parco ma anche nell'ambito del lunatico festival ad esempio possibilità permettendo per chi lo gestisce ma possa in qualche maniera dare attenzione perché sono strumenti che aggregano iniziative che aggregano persone per fortuna numericamente ampio e quindi che anche quel parco della memoria possa avere le attenzioni e la notorietà che merita e non relegato agli appassionati così alti contenuti e preziosi relegati a un'attenzione che nella nostra città non c'è finisco dicendo che sempre il comitato Danilo Dolci ha in animo di tenere presente che bisognerebbe comunque in tutti i casi coltivare quella idea del Trieste praticandola anche nei limiti del possibile Trieste laboratorio di pace con il suo golfo e la sua storia ma anche con l'obiettivo di diventare chissà mai un giorno come era in animo anche di uno scrittore sloveno triestino Boris Pakor di essere capitale europea della pace grazie bene concludiamo quindi qui questa iniziativa posso dire una cosa due minuti prego prima di tutto ringrazio perché quando sono stato lì ho colto devo dire che ho partecipato alla cena palestinese e più che mai adesso nell'ambito di quello che è la quotidianità e sono stato veramente contento nella casualità nel Kaki Tri capitano cose casuali ma non sono casuali questa è una di quelle la seconda cosa volevo dire che spesso si dice che il 6-9 di agosto è periodo di vacanza perciò la gente non c'è le cerimonie e quello che mi viene da fare come battuta è che effettivamente la guerra non va mai in ferie questo è uno degli altri aspetti che dobbiamo tenere presente in agosto di solito viene ratizzata ecco e la terza cosa visto che si parlava della pasta asciuttata ricordando quella dei fratelli Cervi in quel di campeggine noi l'anno scorso il caso ha voluto proprio che in uno dei nostri passaggi in bicicletta abbiamo vissuto una serata e siamo stati insieme ad Adelmo Cervi questa è stata un'altra occasione strana che capita con il Kaki Tri senza programmarla perché effettivamente ci stiamo accorgendo che ci capitano cose che rimangono molto all'interno per quello che ci teniamo veramente ad incontrare per chi potrà esserci ma proprio per essere diciamo così per condividere i pensieri che è l'unico modo di risolvere i conflitti perciò vi ringrazio tutti e scusatemi ma mi ci tenevo a fare questi due appoggi riguardo proprio al discorso della non casualità di quello che capita con il Kaki Tri bene si conclude questa conferenza ovviamente antinucleare arrivederci a tutti grazie grazie